Musica Mercoledì 9 maggio, benvenuti con l'informazione di VercelliWeb.tv Ecco le notizie Casale Monferrato sarà presente al Salone del Libro di Torino in programma da domani Domani pomeriggio alle 16 il vino sarà protagonista con le sue connessioni alla natura e all'arte del Monferrato A proposito di Casale Monferrato parlerà l'assessore alla cultura Daria Carni attraverso un vino, il Grignolino A proposito della Top Ten raggiunta dal prestigioso titolo di Capitale Italiana della Cultura 2020 della sua esperienza di superamento dei confini amministrativi attraverso la partecipazione a Monferrato On Tour e la trasformazione delle difficoltà in chance con il concetto di capitale resiliente Oggi anche Vercelli ha celebrato la Festa dell'Europa Dalle 9 alle 12 Piazza Cavour si è animata di ragazzi Organizzato dal centro informativo Europe Direct del Comune di Vercelli In collaborazione con l'Ufficio Scolastico Territoriale di Vercelli, Ufficio Educazione Fisica La partecipazione e collaborazione dei volontari del Servizio Civile di Vercelli e di Coverfop L'evento intitolato Benesse Europa rappresenta la giornata conclusiva del progetto Sana Alimentazione e Attività Fisica Un percorso educativo iniziato nei primi mesi del 2018 in diverse scuole di ogni ordine e grado di Vercelli e provincia Oggi è il 9 maggio e cioè si ricorda la dichiarazione Schumann Il ministro degli esteri francese che nel dopoguerra aveva per la prima volta parlato di Europa Invitando i paesi dell'Europa ad unirsi per condividere le risorse del carbone e dell'acciaio Quindi oggi è la giornata che viene festeggiata in Italia, in tutte le piazze italiane e ovviamente in tutti i paesi europei Per Vercelli è il sesto anno che si festeggia in quanto lo sportello Europe Direct è appunto aperto da sei anni E il tema di quest'anno è la sana alimentazione, l'attività fisica, quindi uno stile di vita sano Perché questo è una delle priorità della Commissione Europea Ogni anno noi scegliamo un tema, il Presidente della Commissione Europea Juncker ha tra le sue priorità E' proprio quello di promuovere l'attività fisica e la tutela dei consumatori, dei suoi cittadini La giornata di oggi rappresenta la conclusione di un percorso che le scuole hanno fatto nel mese di marzo e aprile Grazie agli educatori da noi incaricati, Luca Bergamasco e Pamela Bagatello Che sono andati nelle classi a spiegare un po' le attività appunto che l'Unione Europea svolge per la nostra tutela E li hanno accompagnati a produrre delle cose che appunto vengono presentate oggi Sabato 12 maggio e martedì 15 maggio in piazza Zappelloni a Santià, area mercatale sotto la struttura Capanna Dalle 9 alle 12 verranno distribuite gratuitamente le forniture di sacchetti per la raccolta della plastica E della frazione organica relative all'anno in corso La distribuzione verrà effettuata sia ai cittadini residenti sia alle attività commerciali Che non hanno ancora ritirato la fornitura 2018 Sarà Luigi Tarricone, commercialista e già presidente del sudalizio oggi guidato da Francesco Bavagnoli Nell'anno 1999-2000 il nuovo governatore del Lion Club del distretto 108 IA1 La nomina ufficiale è avvenuta sabato scorso durante il congresso di chiusura del predecessore di Tarricone Francesco Preti in quel di Varallo Vercelli si colora di giallo-blu dal momento che, per la prima volta nella storia del capoluogo di provincia Bicciolano Il prossimo 14 luglio ospiterà altresì oltre 200 soci Lions per il congresso di apertura dell'anno lionistico piemontese E Valdostano Targato Tarricone Il cantante e pittore Ivan Cattaneo sarà presente e canterà alcuni tra i suoi più famosi successi venerdì 11 maggio alle ore 18 per il finissage della sua personale Visi di Visi presso la Casa d'Arte in via Morosone 3 a Vercelli L'intrattenimento musicale sarà curato dal complesso vercellese roulette cinese Ed ora un attimo di pubblicità e poi le notizie sportive Terremoto in casa a Oca e amatori Vercelli Ieri si è dimesso il vicepresidente Mirko Giarolo importante figura dell'amatore di queste ultime stagioni tra le motivazioni e gli eccessivi personalismi di qualche dirigente Dice Giarolo sul sito Vercelli Notizie L'amatore è una società che ha bisogno di riorganizzarsi in modo serio e professionale Mi pare che questo non stia avvenendo Alle dimissioni di Giarolo sono seguiti oggi quelle di altri quattro consiglieri Tugnolo, Gulandris, Morandotti e Busca con una conseguente crisi societaria dell'amatore Staremo a vedere Per oggi con l'informazione è tutto Appuntamento a domani Per oggi con l'informazione è tutto